Quanto pesa lo sguardo dell'altro nella vita di una persona a cui è stato cucito sulla pelle lo stigma della diversità? Quanto handicap crea la discriminazione? Quanti pregiudizi pesano nei nostri rapporti interpersonali? Sono domande scomode per la coscienza di tutti noi quelle che l'Associazione La Locanda delle Idee si è posto organizzando dalle 18 di mercoledì 2 alle 18 di giovedì 3 dicembre una 24 ore di cammino non stop a Torino sulla scia dell'iniziativa Il Cammino di Marcella e in occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità L'iniziativa è stata patrocinata e sostenuta dal punto di vista organizzativo dalla città metropolitana di Torino Nelle intenzioni degli organizzatori verrà replicata in numerose città italiane nel corso del 2016 Le 24 ore di cammino non sono servite a stabilire un record di percorrenza ma a realizzare una sorta di brainstorming sull'identità e sui diritti dell'uomo coinvolgendo anche le persone che i promotori hanno incontrato casualmente lungo il percorso Anna Rastello, promotrice di questa iniziativa, un cammino di 24 ore nelle vie di Torino per dimostrare qualcosa o per imparare qualcosa? Per imparare qualcosa perché io sono molto curiosa e mi sono resa conto con la mia esperienza di mamma di ragazzini con disabilità che ci sono tantissime proposte ma come sempre il troppo diventa poi nulla per cui diventa poi difficile trovare delle informazioni concrete su attività, su quello che realmente si fa e allora con questo cammino mi piacerebbe mettere in rete iniziative anche molto semplici non quelle delle grandi associazioni che sono quelle più facilmente raggiungibili ma quelle più, ribadisco, semplici organizzate da associazioni, da laboratori, da enti che lavorano con normodotati e con disabili L'idea è insomma di scrivere un po' un libro bianco di questa 24 ore con tutte le proposte, i gruppi, le associazioni che fanno qualcosa di concreto per le persone con disabilità Proprio, metteremo in evidenza le iniziative e poi tutti i link possibili per raggiungere chi queste iniziative le ha messe in atto Intanto bisogna seguire la pagina Facebook del Cammino di Marcella Sì, e poi anche successivamente il sito web camminodimarcella.movimentolento.it e poi venire a camminare con noi Sì, e poi venire a camminare con noi